Le regioni che hanno chiesto l'autonomia differenziata hanno anche chiesto che si riaprano le case chiuse. D'altra parte, da molte parti c'è questa richiesta. Ora, noi siamo assolutamente contrarie a questo e ci meraviglia che persone che si sono opposte all'autonomia differenziata, in quanto l'hanno chiamata la secessione dei ricchi, poi siano d'accordo sulla questione della riapertura delle case chiuse che è la mercificazione del corpo della donna. Noi siamo contro la mercificazione del corpo della donna. Non a caso uno dei libri oggi presentati si chiama Stupro a pagamento. Ebbene, noi siamo contro lo stupro a pagamento. E' una giornata importante per la città metropolitana perché cominciamo a parlare dei diritti delle donne, perché la prostituzione debba essere colta comunque come uno sfruttamento. Quindi noi ribadiamo il no alla riapertura delle case chiuse, ribadiamo il no alla legalizzazione della prostituzione perché prostituzione è schiavitù, in una maniera o nell'altra. E ledere i diritti delle donne. La distinzione è una distinzione falsa e è usata per sanitarizzare e normalizzare lo sfruttamento sessuale, per giustificarlo. Si potrebbe fare un paragone con l'abuso dei bambini e dire appunto che l'abuso sessuale sui bambini è semplicemente che i bambini vogliono fare sesso con gli adulti. Ovviamente questo non esiste, si tratta di un abuso. E' vero che esistono delle persone che dicono di essere felici e di voler restare nella prostituzione, ma si tratta di casi eccezionali. E assolutamente questi casi non devono essere usati per confondere, per nascondere la realtà drammatica della larga maggioranza delle donne prostituite nel mondo che invece subiscono sfruttamento sessuale.